Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sonslet e in questo video vi spiegherò le regole del mio gioco basato sui gormiti, Gormiti Astreg Arena. Cosa vi serve per giocare a Gormiti Astreg Arena? Prima di tutto, una griglia di gioco. Un campo da gioco in formato quadrato 8x8, quasi a scacchiera. Anche una scacchiera va bene, l'importante è che sia 8x8 e che ci entrino i gormiti. Una cosa non essenziale da avere in pratica, ma che comunque i suoi spazi verranno utilizzati, è la plancia di gioco. La plancia di gioco è un po' come il campo da gioco di Yu-Gi-Oh! Pokémon e tutti i giochi di carte, dove posizioni le carte dei tuoi gormiti, il tuo mazzo, la pila degli scarti e i frammenti dell'occhio della vita. Che adesso, tranquilli ragazzi, vedremo tutto. Ne servirà una a giocatore. Prossima cosa sono i gormiti stessi. In questo video, in cui spiego le regole e farò una partita di prova, userò Florus e Maio Infuocato. Alla fin fine non sono necessarie le figure. In teoria, il gioco è usato sulla prima serie, eppure sto usando una figure Energei e una Final Evolutions. L'importante è che si capisca chi è chi. Quello, l'elemento essenziale, è avere, in una maniera o nell'altra, le carte individuali dei gormiti. Nel formato standard di gioco, ciascun giocatore può usare tanti gormiti, fin tanto che la somma della loro potenza è 10. In questo caso farò una partita 1v1, perché è più rapida, ma sappiate che potete utilizzare due gormiti, fin tanto che la somma dei loro punteggi non superi 10. Le carte del giocatore vanno in questa zona qua. La prossima cosa necessaria sono le carte azione. Ciascun giocatore avrà a disposizione, dovrà avere un mazzo di carte azione, che sono queste qua, composto da 10 carte più 5 per ogni gormita utilizzato. In questo caso abbiamo un gormita ciascuno, quindi sono 15 carte per ciascun giocatore. In caso si utilizzino due gormiti, si hanno 20 carte. Se potete mescolate il mazzo, ma... Infine, l'ultima cosa necessaria sono i frammenti dell'occhio della vita. I frammenti dell'occhio della vita sono una sorta di energia, mana, qualsiasi cosa che faccia da unità di costo delle carte. E questo è quello. Nel formato che ho fatto io del frammento dell'occhio della vita, il file di stampa è in descrizione, Da un lato c'è il frammento carico, dall'altro c'è il frammento scarico. Quindi quando lo utilizzate, semplicemente lo flippate e poi si ricarica all'inizio del turno successivo. Si hanno tre frammenti dell'occhio della vita per gormita. In caso di due o più gormiti, i frammenti dell'occhio della vita sono condivisi. Però certe azioni sono limitate ad una volta per turno per ciascun gormita. Adesso abbiamo preparato il campo dal gioco. Prima di tutto si decide chi comincia la partita. Tipicamente si guarda la velocità dei gormiti utilizzati, che è questa statistica qua. Ma in questo caso la velocità di Florus e la velocità di Maio Infuocato è la stessa. È la stessa. Di conseguenza, per decidere chi gioca, si decide a caso. In questo caso utilizzerò un dado di 6. Chi tira più alto vince. Inizia Florus. Benissimo, perché è il lato da dove sto io. La mano iniziale è di 5 carte. Ok, ora che abbiamo... Ciascuno ha la propria mano, bisogna decidere dove posizionare i gormiti. Si comincia dal primo giocatore, quindi Florus decide la sua posizione iniziale. Mettiamolo qui. Il suo avversario poi deciderà dove posizionare il proprio gormita. Questo elemento di selezione della casella in cui ci si posiziona all'inizio della partita può sembrare un po' inutile. Ma per certe strategie di gioco è importante posizionarsi in una posizione vantaggiosa rispetto al proprio avversario. Ad esempio, dovessi avere un gormita che attacca a distanza, la mia volontà è di posizionarmi, come ad esempio Florus, la mia volontà è di mettermi a distanza massima dal proprio avversario. Mentre al contrario, i gormiti che si badano sul combattimento a contatto, come Maio Infuocato, avranno come prerogativa di posizionarsi di fronte al proprio avversario. Così da raggiungerlo prima. Ok? Ora, una volta che posizionati tutto quanto sul campo, è tempo di iniziare il proprio turno. È il turno di Florus. Cosa si può fare durante il proprio turno? Durante il proprio turno si possono fare tre cose principalmente. E tutte e tre le cose costano frammenti dell'occhio della vita. Partiamo col pescare una carta dalla cima del mazzo. bisogna spendere un frammento dell'occhio della vita. E si pesca una carta dalla cima del mazzo e si mette nella propria mano. Questa cosa può essere fatta una volta per gormita. Altra cosa che si può fare? Effettuare uno spostamento. Per effettuare uno spostamento, si può spendere un frammento dell'occhio della vita e ci si muove della propria velocità, uno, più uno. Quindi di una casella più la propria velocità. Quindi in questo caso mi posso spostare due caselle. Ognuna casella è uno, però le caselle oblique valgono 1,5. Di conseguenza io mi posso muovere qua, però se mi muovo qua è 1,5, se mi muovo qua è 3. Di conseguenza non mi posso posizionare qui ad esempio con uno spostamento di 2. Ma ci si può spostare qui, con uno spostamento di 1 più 1,5. Questo perché lo spostamento si calcola per eccesso. Quindi con 2 di velocità ci si può posizionare anche in queste caselle semi oblique. Infine, l'ultima cosa che si può fare con i propri punti azione o frammenti dell'occhio della vita è utilizzare una carta azione dalla propria mano. In questo caso posso utilizzare soltanto soffio della cuoresta perché è l'unica carta con costo 1 e poi utilizzando questa carta va nella pila degli scarti. Ok, è tempo di analizzare le carte azione. In questo caso abbiamo una carta azione un po' particolare. Qua in alto a sinistra è scritto il costo. Questo è il popolo dei gormiti che possono utilizzarla. Qua è segnato il tipo standard, poi lo vedremo meglio. L'effetto, le statistiche che poi vedremo meglio e l'urlo di battaglia con l'artwork e il nome. Ad esempio, questa carta ha come effetto guarda la mano del tuo avversario. Quindi la utilizzo, va nella pila degli scarti e mi guardo la mano del mio avversario. Oh, come se non l'avrei vista fra poco. Interessante. No, davvero interessante. Bella mano. Ok, e così facendo il nostro turno è terminato. Tempo di passare al turno di Maio Infuocato. Ok, con Maio Infuocato decido di effettuare uno spostamento. Anche lui ha velocità 1, quindi posso muovere di una casella più la sua velocità. 1, 2. Vole a 5, quindi 2. Pagando un punto azione, un formento dell'occhio della vita. Per poi utilizzare una carta azione. Attacco in carica. E adesso parliamo della specie. Delle statistiche. Queste statistiche sono le statistiche che ti permettono, che sono in un certo senso più influenti della carta. La prima è il movimento. Utilizzando questa carta ti puoi spostare della tua velocità più 1. Quindi in questo caso ti puoi spostare di due caselle. Quindi ci si sposta di una propria velocità più 1. Seconda cosa, il range. Fino a quante caselle si può colpire il proprio bersaglio. In questo caso è 1. Quindi tutte le caselle adiacenti al gormita, in tutte le caselle adiacenti al gormita, si può colpire il proprio avversario. Anche quello obliche, perché anche qui si applica il calcolo per eccesso. Quindi queste caselle sono 1,5. Il range è 1. Puoi utilizzare lo stesso questa carta e colpire un gormita in questa casella. E infine il danno. In questo caso è 0. Si applica il calcolo dei danni. Come funziona il calcolo dei danni? Praticamente questa carta, avendo questo simbolo qua, la specie, è fisica. Questa è una carta fisica. Di conseguenza il calcolo si applica con le statistiche fisiche. E quindi qui vediamo le carte individuali. Le statistiche delle carte individuali. Le statistiche sono attacco fisico, difesa fisica, attacco magico e difesa magica. Quando si utilizza una carta fisico, si somma l'attacco fisico del gormita attaccante più il danno della carta azione, meno la difesa fisica del gormita bersaglio. In questo caso si ha 2 di attacco fisico, più 0, meno 0. Quindi gli infligge 2 punti vita totali. Dato che il costo di attacco in carica è 2, i frammenti dell'occhio della vita del maglio infuocato sono terminati e il suo turno finisce. Per segnare i punti della vita dei gormiti utilizzerò dei dadi. Voi fate come volete, io utilizzo dei dadi. Potete usare i segnalini di Pokémon, dadi, foglietti di carta consegnato dei numeri e via. E gli rimangono 2 punti vita di conseguenza. Inizia il mio turno. Prima di tutto si ricaricano i frammenti dell'occhio della vita. Così che possano essere utilizzati anche questi. E quindi posso decidere cosa fare. Con Florus utilizzo la carta azione onda d'urto. Ok? Quindi spostamento nullo, non effetto spostamento utilizzando questa carta. Range 1 ad aria, quindi colpisce tutti i gormiti nell'area di riferimento. In questo caso 1. E 0 che è il danno. In questo caso è magica questa carta azione. Questa carta azione è magica e di conseguenza il danno si calcola con le statistiche magiche. Quindi Florus ha 2 di attacco magico. Maglio è infuocato a 0 di difesa magica. Quindi gli inflicco 2. E anche Maglio è infuocato sta a 2 di vita. Inoltre c'è l'effetto della carta. Pesca una carta, sposta ogni bersaglio di una casella indietro. Quindi pesco una carta dal mio mazzo, infamistica, bene. E sposto ogni bersaglio di una casella indietro. Utilizzando questa carta spendo 2 frammenti dell'occhio della vita. E poi me ne rimane 1. Quindi posso effettuare un spostamento. E quindi mi sposto qua. Inizia il turno, si ricaricano i frammenti dell'occhio della vita. Con Maglio è infuocato. Io adesso spendo un punto per pescare una carta. Bene. Spendo un altro punto per spostarmi. Mi metto qui. E infine spendo l'ultimo turno per Rituale Oscuro. Rituale Oscuro, come vedete, è di una specie diversa. Questa è una carta equipaggiamento. Di conseguenza, quando l'attivi... E non ha alcun effetto. Di conseguenza, quando l'attivi, questa carta viene posizionata a fianco del tuo gormita individuale. E l'effetto si applica fin tanto che la carta rimane equipaggiata. In questo caso, questa carta dice... Le carte magiche usate dal gormita equipaggiato ottengono potenza più 1. Quando viene usata una carta magico dal gormita equipaggiato, scarta questa carta. Di conseguenza, quando utilizzerò una carta magico con Maglio infuocato, questa carta si scarterà. Ma quella carta riceverà un bonus di più 1 alla magia. Al danno. E così termino il mio turno. La situazione qui è drastica. Allora... Ricarichiamo i punti frammenti dell'occhio della vita. Uso la carta azione cura naturale. Che mi costa 2 frammenti dell'occhio della vita. 1 e 2. E mi curo di 3 punti salute, come ho detto nella carta. Dato che ne ho 4, ritorno a 4. Poi utilizzo una carta azione equipaggiamento linfamistica. E adesso vi spiego il tipo della carta. Queste due carte, oltre a una differenza di costo, di specie qua e di effetti, hanno anche un'altra differenza. Questa è definita standard e questa è definita rapida. Le carte rapido possono essere usate in quantità illimitata durante il proprio turno. Quindi può utilizzare più di una carta rapida durante il proprio turno. Mentre le carte standard possono essere utilizzate soltanto una al turno. Quindi dal Gormita. Una per Gormita. Quindi con Florus, se questa carta fosse stata standard, non avrei potuto utilizzarla. Mentre ora come ora, essendo rapida, posso utilizzarle entrambe. L'infamistica aumenta l'attacco magico e la difesa magica del Gormita fino all'inizio del tuo prossimo turno. Quindi ho questa carta e mi aumenta la difesa magica. E finisco i frammenti dell'occhio della vita. Ok, è il turno di Maglio Infuocato. Pesco una carta. Ok. Mi sposto. Con l'ultima puntazione. E poi passo il turno. Puoi finire il turno anche con tutti i frammenti dell'occhio della vita non utilizzati. Per adesso non ci sono carte che si possono utilizzare durante il turno all'avversario. Ma eventualmente, forse in futuro, ne aggiungerò. Quindi, ok, è il turno di Florus. È l'inizio del turno, di conseguenza l'infamistica si scarta per il suo stesso effetto fino all'inizio del tuo prossimo turno. E poi pesco una carta con i frammenti dell'occhio della vita. Utilizzo la carta Spore Velenosa. Questa è una carta rapido. Con range 2, che non mi permette di fare spostamento e che non ha danno. Ma che può essere che ha l'archetipo Spore. L'archetipo indica quali gormiti possono utilizzare quella carta. Infatti, oltre alle statistiche, il gormita ha anche abilità e archetipi. Alcune carte azione, avendo l'archetipo, possono essere utilizzate anche dai gormiti con quello stesso archetipo. Come in questo caso. Florus può usare Spore Velenose. Ma Maio Infuocato non può. Inoltre, gli archetipi possono anche avere effetti. Quindi in questo caso Spore, qua dice, scusate ve l'ho fatto troppo piccolo, immune all'avvelenamento. Di conseguenza, se provi ad avvelenarlo, non si avvelena. Ma diciamo che non credo che qualcuno abbia mai provato di avvelenare Sporus. L'effetto di Spore Velenose è il gormita bersaglio è avvelenato. Ci sono due condizioni di stato. Avvelenamento e bruciatura. Escottatura. L'avvelenamento ti infligge un punto salute alla fine di ogni tuo turno. Mentre la bruciatura ti riduce la difesa di uno. La difesa fisica di uno. Proprio molto banalmente. L'avvelenatura e la bruciatura possono essere annullati soltanto con carte che specificano che quella condizione viene annullata, oppure rimossa, oppure un'abilità o qualche effetto che lo rende immune. Fortunatamente Maio Infuocato non ce l'ha. Ecco, stato due. Quindi finiscono i frammenti. È il turno di Maio. Si ricarica nei frammenti dell'Occhio della vita. Maio pesca una carta. Oh, finalmente! La carta che ho pescato e che adesso procederò ad utilizzare è Sbarramento Infuocato. Sbarramento Infuocato, come vedete, è un'altra specie. Questa è una carta terraformazione. Le carte terraformazioni sono carte particolari che evocano dei segnalini al campo da gioco che mantengono degli effetti fin tanto che quei segnalini non vengono rimossi. Qua è segnato il range nel quale possono essere inseriti. Per esempio, questa carta evoca tre segnalini muro di fuoco che hanno queste statistiche. Quindi per essere buttati giù devono subire questi danni. Qua è segnato ostacoli. Gli ostacoli sono tutti gli elementi di gioco che non possono essere scavalcati o attraversati o si possono trovare nelle stesse caselle. Quindi, ad esempio, i gormiti non possono entrare nella stessa casella l'uno dell'altro perché anche i gormiti sono ostacoli. In questo caso evoca tre ostacoli, muro di fuoco, ma degli ostacoli particolari perché hanno l'effetto che possono essere attraversati, tranne che effetti di carte azione magici. Quindi, ad esempio, se hai una carta azione magico con range 3 non lo puoi fare se in mezzo... non puoi colpire il tuo bersaglio se in mezzo c'è un muro di fuoco. Stessa cosa con... stessa cosa con tutti gli ostacoli. Inoltre, quando un gormita entra dentro una casella di muro di fuoco, viene bruciato e perde un punto vita. E quando inizia il turno su una casella di sbarramento infuocato, viene bruciato e perde un punto vita. Quindi, in questo caso, piazzo tre segnalini. Sfortunatamente non sono riuscito a ritagliare i segnalini sbarramento infuocato in tempo, quindi utilizzerò questi foglietti di carta per indicare che in queste caselle ci sta uno sbarramento infuocato. Metto lo sbarramento infuocato qua e, dato che mi trovo su quella casella, sono entrato in quella casella, in teoria vengo bruciato e perdo un punto vita. Questa è parecchio forte come carta. Inoltre, dato che questa carta ha un costo di due, il suo turno finisce, inizia il mio, si reattivano i punti azione, inizio il turno in una casella di sbarramento infuocato, perdo un punto vita e vengo bruciato di nuovo, ma non è cumulabile la bruciatura, non più. Di conseguenza mi restano due punti vita. Cosa potrò mai fare? Peschiamo una carta azione. Ok. Nulla di interessante. Ah, ci siamo dimenticati dell'avvelenamento, ma io ufocato rimane a un punto vita. Di conseguenza utilizzo bastonata. Bonk. Zero di movimento, quindi posso spostare di una casella. È uguale. Uno di range, è nel range. Non è magica, quindi passa attraverso il muro. Danno uno, più uno. Due di danno fisico. Lui ha uno di difesa, di conseguenza gli infliggo uno. E maio infuocato è KO. E quindi ha vinto Florus, proprio all'ultimo. Aspettava un altro turno e mi andava giù. E questa era una partita di prova. Regole che non sono riuscito a spiegare. Il danno minimo è uno. Quindi, ad esempio, se gli avessi utilizzato, anziché aver utilizzato bastonata, avessi utilizzato stretta, avrebbe dato più zero. Quindi di attacco più zero è uno. La difesa è uno. Effettivamente sarebbe stato un danno nullo. Ma il danno minimo è uno. Quindi anche in questo caso gli avresti tolto uno. Anche se tu colpissi un gormita con tre di difesa fisica, con un attacco fisico che infligge alla fin fine uno, o anche zero, il danno minimo è uno. Quindi almeno un punto vita glielo togli. Questo è stato inserito per non creare personaggi troppo sbregati che sono completamente immuni a danni e attacchi di gormiti un pochino meno forti. Il sistema di ostacoli non vi capiterà molto spesso, ma se volessi colpire Maglio Infuocato e qui di fronte ho un ostacolo, con un attacco magico facciamo proiettili energetici. Mettiamo che voglio utilizzare i proiettili energetici contro Maglio Infuocato, ma mi ritrovo in questa casella qua. Come faccio? Beh, lo colpisco oppure no? Anzi, meglio chiedere. Beh, il metodo è semplice. Se riesci a creare una linea immaginaria retta fra un angolo della casella del tuo gormita e l'angolo del tuo bersaglio, che è nel range, allora puoi colpire quel bersaglio. Quindi in questo caso, dato che riesco a mettere una linea retta fra un angolo di un gormita e del gormita attaccante, quello del bersaglio, senza alcun ostacolo in mezzo, riesco a colpirlo. Se il segnalino fosse stato qua, riuscirei a colpirlo da qui. Sì. Se il segnalino fosse stato qua, riuscirei a colpirlo da qui. Quindi un segnalino da solo, per esempio, in questo caso, non ti blocca. Però già ce ne fossero stati due, non sarei più riuscito a colpirlo. Quindi queste sono le regole del gioco. Fatemi sapere se avete dubbi, se avete domande, eccetera. Io ho fatto una partita molto semplice, giocata anche male. Però le regole le ho seguite tutte. Questo video l'ho fatto principalmente per i Rimini Comics. Quando sarò... quando sto registrando, sto registrando il giorno prima del Rimini Comics. Queste carte mi sono state stampate questo giorno, qua, il venerdì, prima del raduno gormitico al Rimini Comics. E quindi è l'unica cosina che ho avuto per registrare questo video. Spero di riuscire a montarlo e pubblicarlo sabato a mezzogiorno. Se no, se è un altro giorno... divertente. Le stampe sono venute molto bene. Ci sono un paio di cosette, in realtà, da rifinire. Ma per lo più è venuta una figata. Veramente una figata pazzesca, non vi rendete conto. A me almeno fa figo duro, perché queste carte le ho fatte io. È un anno che ci lavoro su queste carte. Quindi a me piacciono un bel po'. Ci sono delle bombe, ci sono proprio delle bombe di carte. Tipo questo bellissimo Florus di Homura. Kuro Inc, scusatemi. Oppure il campo da gioco di Rossano Valletta. E anche le plance di gioco. Di cui la grafica è mia. Ma l'immagine di sfondo è la mia immagine di profilo. Di gormitologi della piana di Astreg. Ritagliata in maniera tale che ci stia, in un certo senso. A Riminicomics avrò portato in esclusiva, in anteprima, due carte speciali, esclusive in un certo senso, del Riminicomics, che sono la Normal e la Full Art di Poivrons, Il Signore del Rock. Artwork, carte che, gli artwork sono pubblici, ma le carte stesse non stanno nessun file di stampa, quindi in un certo senso sono esclusive Riminicomics. Poi in realtà, se voi volete stampare, il file c'è, ve lo fate da per voi. Però queste, in un certo senso, sono esclusive Riminicomics. Io faccio il possibile. Bellissimo. Poi l'ho sbasato sulla canzone oramai cancellata, che cercherò di far riportare online. E niente. Spero che questo gioco vi piaccia. Spero che le regole ve le abbia spiegate per bene durante una partita di prova. E durante questa partita di prova. Quindi vi ringrazio per aver visto il video. Spero che vi, Florus e Mayufuocato qui, vi ringraziano. Adesso devo editare questo video prima di andare a dormire. Non so che ora è. Non lo voglio sapere. Ma non è tardissimo. Dai, forse ce la faccio in un orario decente. Domattina devo andare a Riminicomics. Quindi. Spero che l'audio sia venuto decentemente. Spero che il video sia venuto decentemente. E niente. Dopo Riminicomics ho un esame da fare. Poi dopo ritorno. Ritorno, ragazzi. Ritorno. Ci sono. Farò video normali. Non farò più di questo gioco per un po'. Per un po'. Poi ricomincio. Allora.